Buongiorno, dottore, come vede sono affetto da questo grave, rivedo questo fischio, abbandona e le donne rindono di me. Caro signore, per i malati di fischietto, ho preventato questo parecchietto, per me te, io amico, e lo vedrà la lingua di mano. Grazie, dottore, e inoltre cosa devo fare per guarire da questo difetto? Vada a casa e sti in silenzio, per i giorni tre. E così il nostro paziente, dopo tre giorni di silenzio, ritornava dal dottore il nero, un po' emozionativo, sì, ma fiducioso di guarire. Cocan-gan, cocan-gan, cocan-gan-gan-gan, tingo-go-can-gan-gon, tingo-go-can-gan-gon, tingo-go-can-gan-gon. Ecco qui il nostro malato, che bella c'era, la trovo bene, come sta la sua grillite, ora le tolgo il nostro amicchietto e ora le guarirà. dunque o dottore accidenti sono affetto da un bel più grave difetto e sa cosa le dico ciao Grazie a tutti